Concludiamo la lezione di oggi parlando di patologia dell'endocardio, nello specifico parliamo di una condizione che è abbastanza frequente, soprattutto in alcuni setting di ricovero, che è l'endocardite infettiva. Cosa intendo per l'endocardite infettiva? Come al solito la definizione, l'endocardite infettiva intendo un'infezione dell'endocardio, in realtà di un endocardio molto specifico che è quello delle valvole cardiache. Quindi quando parlo di endocardite non parlo di infettiva dell'endocardio, così è una zona a caso, ma parlo di infettiva delle valvole cardiache, che possono essere le valvole originarie, native del mio paziente, o possono essere anche le valvole, per esempio, o protesi, un paziente che ha fatto una sostituzione valvolare. L'endocardite ovviamente, cioè la posizione di batteri, miceti, vediamo poi di che cosa si tratta quando parliamo di endocardite, distrugge la valvola, porta a una problematica nella funzione normale della valvola, che può essere o una stenosi, quindi il restringimento o un'insufficienza, e può portare anche a problematiche di ordine periferico, che poi vediamo nel dettaglio. In linea di massima, l'incidenza dell'endocardite infettiva non è una patologia estremamente frequente e coinvolge nello specifico alcune popolazioni ben selezionate, cioè se prendete l'incidenza globale, l'incidenza globale bassa, varia dai 2 ai 10 casi per 100.000 persone l'anno, pare che sia in realtà una patologia in aumento, semplicemente perché quello che aumenta è l'età media della popolazione. Il paziente anziano è un paziente che di per sé è più facilmente colpito da endocardite infettiva. Gli uomini, come spesso capita alle patologie cardiovascolari, sono colpiti circa il doppio rispetto alle donne, ma dicevamo è un problema di popolazione specifica, nel senso che alcuni sottogruppi, per esempio i pazienti con protesi meccaniche o biologiche di valvola, i pazienti che hanno subito una riparazione valvorare, i pazienti che hanno un materiale estraneo nel circuito cardiovascolare nel lungo periodo, per esempio i pazienti con cateteri da emodialisi, i pazienti con PIC o PORT o dispositivi per la chemioterapia, e i pazienti immunocompromessi, parlo sia dell'immunocompromesso, diciamo, classico, della neoplasia ematologica che il paziente con infezione di HIV o edo, comunque è un paziente che tendenzialmente sviluppa più facilmente l'endocardite infettiva. Quindi quando si va a sospettare l'endocardite infettiva, si sospetta soprattutto in questi gruppi ben definiti di pazienti. che sono quelli che vedete qua. Tra i fattori di rischio per l'endocardite infettiva, ricordiamo anche, per quanto riguarda la parte cardiovascolare, il paziente con device, nello specifico con pacemaker o con defibrillatore impiantabile. Quello è un paziente che ha un corpo estrano nel torrente circolatorio venoso, ed è un paziente che facilmente può avere come complicanze di un'infezione, per esempio della tasca, il sottocutane del dispositivo, come complicanza può avere un'endocardite infettiva. Quindi problematica, se vogliamo, abbastanza rara, però capite anche di gestione piuttosto difficile, perché spesso coinvolge pazienti già abbastanza compromessi. La fisiopatologia qual è? In realtà è abbastanza semplice. C'è un evento iniziale che fa sì che da una parte si riesca ad arrivare ad una carica batterica o fungina, tale da dare una batteriemia, una micetemia transitoria. Come vedete, la carica iniziale può avvenire da un'infezione intercorrente, dall'uso di sostanze endovenose, un altro esempio classico, i pazienti a rischio per endocardite infettiva, sono i pazienti con dipendenza da sostanze per uso endovenoso, il paziente che fa farmaci su lungo periodo, che fa dialisi, e tutto questo può portare al passaggio di microrganismi nel torrente circolatorio, che può essere sia venoso o arterioso, ovviamente per l'uso di droghe endovena o di farmaci parliamo di torrente venoso. Questo associato a un danno dell'endotelio della valvola fa sì che la valvola esponga marcatori pro-infiammatori, si vada a, diciamo, scatenare un processo di rimodellamento su cui poi si agganciano sia le piastrine che i nostri microrganismi. Quindi il processo è un processo che piano piano coinvolge tutta la valvola, tutto il lembo valvolare nel suo spessore e che porta a un rimodellamento completo della struttura valvolare. Questo fa sì che da una parte si vada a danneggiare la normale struttura e quindi la funzione della valvola, dall'altra la formazione di queste vegetazioni, qualora di dimensioni importanti, si possa anche far sì che la vegetazione troppo grossa si frammenti, si rompa e quindi si creino degli emboli settici che poi vanno a valle nel corrente torrente circolatorio e facciamo, diciamo, conto che potremmo trovare emboli sul torrente vascolare polmonare per quanto riguarda gli endocarditi da cuore destro e invece sul versante sistemico per quanto riguarda gli endocarditi da cuore sinistro. Di base sono più frequenti gli endocarditi sulle valvole cardiache sinistre, la mitrale e la orta. Quindi le localizzazioni, abbiamo detto, possono essere diverse. La localizzazione standard è cuore sinistro su valvola nativa, intendo che valvola nativa è la valvola normale dell'individuo, quindi l'endocardite su un mitrale e su aorta. Secondo tipo di localizzazione è la localizzazione sulla valvola protesica, che può essere sia una protesi meccanica, che è una protesi biologica, parleremo poi quando facciamo le valvolopatie, vi faccio vedere proprio degli esempi di cosa intendo per questi due tipi di valvola. e poi altro tipo di localizzazione è la localizzazione su cuore destro. Questo tipo di localizzazione è, ripeto, estremamente frequente in alcune categorie di soggetti, nello specifico pazienti con dipendenza da farmacia V, pazienti oncologici con PIC o porto, comunque cateteri semipermanenti o a permanenza. In questo caso è ovvio, oltre ai pazienti col PESMAKER, che è di base, o al defibrillatore che di base è un catetere, almeno un catetere che arriva dalla cava superiore, sono tutti vettori esterni per la colonizzazione della tricuspide. Indocardite in valvola polmonare sono estremamente rari. E li vedete qua, questo è il mio PESMAKER classico, con due cateteri, in questo caso è un PESMAKER bicamerale, uno va in atrio destro, uno va in ventricolo destro, è ovvio che una localizzazione, un'infezione del generatore della tasca del PESMAKER possa correre lungo l'elettrodo transvenoso e arrivare fino al versante tricuspidalico. È una complicanza estremamente importante in elettrostimolazione. Per quanto riguarda l'acquisizione, il concetto è molto simile a quello delle polmoniti, nel senso che si distingue un'acquisizione associata all'ospedale, quelle che una volta erano le infezioni ospedaliere, le infezioni nosocomiali, è il 30-40% delle valvole. In questo caso si lavora parlando, come per le polmoniti, nei pazienti che sviluppano la sintomatologia dopo 48 ore dall'ingresso in ospedale o nella casa di cura, per esempio, l'ospedale intende una qualsiasi struttura che ricovera, in questo caso si parla di infezioni nosocomiali, propriamente dette, e ci sono dei pazienti che hanno un'infezione associata comunque alla cura, ma non nosocomiali, quali sono i pazienti, per esempio, che fanno accessi frequenti in struttura, non vengono ricoverati, per esempio, classico, pazienti in dialisi o cicli di chemoterapia. Ci sono poi la maggior parte delle endocardite infettive che sono acquisite in comunità, che sono circa il 70%. Diciamo, la distinzione, se vogliamo, è 30-70%. Per quanto riguarda l'aspetto di microbiologia, allora, in questo caso possiamo avere, come abbiamo accennato, gram positivi, gram negativi e miceti. I gram positivi sono i principali responsabili, perché? Semplicemente perché sono classicamente i commensali cutanei, e quindi dalla cute, attraverso, per esempio, come abbiamo già detto, i dispositivi endovenosi a permanenza o dispositivi impiantabili come per smeccare dei fibrillatori possono passare nel torrente circolatorio. Come vedete, la parte delle ulne la fanno gli aureus e gli streptococchi, che è soprattutto il viridans. Meno frequenti, l'enterococcus specium e l'enterococcus pecalis, che sono classicamente, hanno un'endocardite infettiva nei pazienti con diverticolosi, perché sono commensali intestinali, il che vuol dire che di base hanno un'altissima resistenza agli antibiotici, perché spesso sono ceppi selezionati, e li vedete qua. I più comuni sono gli stafilococchi, l'epidermidis ha un trofismo prespiccato per le valvole protesiche, gli enterococchi, i pazienti anziani, i pazienti con storia di diverticolosi, sono, essendo commensali intestinali, i pazienti, i microorganismi selezionati con alta resistenza agli antibiotici. Per quanto riguarda i gram negativi meno frequenti, abbiamo un gruppo AGEC, mi interessa che li sappiate, ricordatevi che è l'acronimo, questi sono classicamente saprofiti della flora batterico orale, sono spesso i batteri responsabili dell'endocardite conseguenti a interventi o manipolazioni del cavo orale, sono gli endocarditi da dentista, per dirla proprio schietta. E poi lo pseudomonas, anche questo è un gram negativo, abbastanza raro, ha un trofismo spiccato per alcune protesi, per esempio, le chiusure dei PFO, l'AMPLATS, che è un dispositivo di chiusura del forame ovale, di un difetto interatriale, e sono anche queste estremamente resistenti a terapia antibiotica, di base l'endocardite da soldomonas, ha una prognesi piuttosto in fausta. E poi ci sono i funghi, funghi che di base richiedono un soggetto immunocompromesso. L'endocardite fungina nel soggetto immunocompetente è quasi impossibile da vedere. Nel soggetto immunocompromesso parliamo di candida, classico paziente ematologico, compromesso con catetere a permanenza per chemioterapia, oppure l'aspergillo. L'aspergillo è leggermente più frequente nei pazienti sottoposti a dialisi. In linea di base, concetto fondamentale, se avete un'infezione fungina sistemica, questo vale in generale non solo per l'endocardite, il paziente potenzialmente è un paziente immunocompromesso. Ci sono anche da sapere, ovviamente non mi interessa che le sappiate tutte, da ricordarsi che non sempre l'endocardite è un'endocardite su un processo infettivo. Ci sono degli endocarditi in cui la base fisiopatologica o un meccanismo molto immune, classicamente l'endocardite di Limbal-Sax nei pazienti con lupus oppure uno stato di ipercoagulabilità per esempio nelle neoplasie maligne in questo caso parliamo di endocardite marantiche. Sono molto rare, non andiamo nello specifico, ricordatevi semplicemente che esistono, cioè non tutte le endocardite sono in effetti infettive. Quali sono i segni e i sintomi? Allora, il meccanismo alla base l'abbiamo già detto, sostanzialmente due meccanismi patogenici fondamentali. Primo, distruzione, rimodellamento della valvola con conseguenza alterazione della funzione strutturale della valvola, cosa vuol dire? Stenosi, restringimento, distruzione al passaggio di sangue o insufficienza, quindi rigurgito. Le due cose molto spesso non sono esclusive o l'una o l'altra ma vengono contemporaneamente, cioè una valvola, soprattutto una valvola nativa con un'endocardite infettiva, una valvola che può dare sia stenosi che insufficienza, cioè non si apre propriamente come dovrebbe quando si deve aprire e non si chiude per mettere il rigurgito quando si deve chiudere. Secondo meccanismo fondamentale, l'embolizzazione della vegetazione che può dare problematiche assolutamente sovrapponibili a un'ischemia periferica a seconda del vaso che va a occludere. Tutto questo contornato ovviamente da fenomeni di risposta immunitaria. Quali sono quindi i sintomi del paziente con endocardite? I sintomi classici quelli che ci sono quasi sempre sono due. Una è la febbre perché ovviamente parliamo di un'infezione sistemica nel migliore dei casi parliamo di una batteria emia transitoria che comunque è da febbre nel peggiore dei casi il paziente con endocardite infettiva è un paziente assettico. E poi un soffio cardiaco di nuova insorgenza che cosa vuol dire? Vuol dire che all'auscultazione ci accorgiamo che c'è un soffio di origine valvolare in un paziente che però non ne aveva storia quindi cosa vuol dire? Che il mio processo di endocardite è andato avanti e ha portato già un danno della valvola. Questi sono i due sintomi classici che vi devo far sospettare l'endocardite. Ci sono anche sintomi un po' meno frequenti se vogliamo però più specifici che sono segni neurologici ocali di nuova insorgenza tutti questi sintomi che vedete sono dati dall'embolizzazione settica di frammenti di vegetazione di questi se questi emboli arrivano a livello cerebrale allora avrò l'equivalente di un ictus ischemico che non sarà un ictus trombotico ma sarà un embolo settico se io ho un embolo settico che mi arriva per esempio un microembole a livello della retina avrò le macchie di Roth se io ho un microinfarto sempre settico a livello delle vasi periferici dell'arto avrò le lesioni di genui se ho degli infarti sempre settici a livello splenico della milza avrò ovviamente un infarto splenico quindi capite che tutto il resto della sintomatologia è dato dall'embolizzazione di parte di vegetazione e quindi da embolo settico se sono sul versante destro perché ho le vegetazioni nanocardite sulla tricuspide cosa avrò avrò gli emboli settici polmonari avrò un embolia polmonare settica ripeto l'embolia settica è meno frequente però capite come le complicanze che può dare sono anche estremamente serie importanti diagnostica dopo il sospetto che abbiamo detto si fa con la febbre nel soffio di nuovo riscontro il cardine di tutto quanto è l'ecocardiogramma l'ecocardiogramma l'ecografia cardiaca che mi permette di vedere se ho le vegetazioni ed uno dei criteri minori maggiori scusate per fare diagnosi di endocardito infettiva l'ecocardiogramma in prima battuta è un ecocardiogramma transtoracico quindi quello normale quello con la sonda appoggiata sull'esterno del torace nei casi dubbi si procede con il transsofazio cioè l'ecocardiogramma in questo caso non viene fatto con una sonda apposta all'esterno del torace ma in maniera simile a una gastroscopia il paziente inghiotte una sonda inghiotte un tubo all'estremità della quale c'è una sonda ecografica il transesofageo lavorando dall'esofago che se vi ricordate è proprio dietro alle camere atriali mi permette una valutazione migliore di alcune strutture tra cui proprio alcune valvole cardiache che il transtoracico non mi permette perché tra la sonda e il cuore c'è la sovrapposizione delle coste della parete toracica e in alcuni casi del polmone di base l'ecostandard transtoracico l'ecocardiogramma standard si fa tutti il transesofageo si fa solo nei casi di grosso sospetto clinico o se il transtoracico non vede niente perché per esempio c'è una clinestra scarsa questi sono i criteri per fare diagnosi di endocardite infettiva e si chiamano anche criteri di Duke modificati perché erano stati originariamente proposti dalla Duke University e per fare diagnosi di endocardite ne servono due maggiori che sono questi qua oppure uno maggiore e tre minori oppure tutti e cinque minori ok quindi può anche essere non può esserci anche i criteri maggiori in realtà criteri maggiori in pratica clinica ci sono quasi sempre quali sono uno l'abbiamo detto l'ecocardiogramma con le vegetazioni l'ecocardiogramma che ha dei segni di rimodellamento della valvola con potenzialmente delle vegetazioni secondo criterio maggiore le emoculture che sono fondamentali mi raccomando in questo caso l'indicazione per fare le emoculture è emoculture su paziente febbrile meglio se sopra 38 sono molto più specifiche di solito i protocolli dei vari ospedali richiedono o due o tre set di emoculture contemporanee minimo due questo perché fare una sola un solo prelievo per emoculture in un sito solo ci espone a una contaminazione cutanea se mi viene una sola emocultura positiva per esempio per uno Staphylococcus aureus io faccio fatica a capire se è una vera emocultura positiva o se semplicemente è stata una contaminazione dell'acute durante il prelievo se ho due emoculture fatte da due siti diversi tutte e due positive per Staphylococco o addirittura tre emoculture tutte e tre positive per Staphylococco allora posso escludere che sia un problema legato all'acquisizione del prelievo dell'emocultura e che in effetti lo Staphylococco è all'interno del torrente circolatorio del paziente il criterio maggiore se l'emocultura viene positiva per uno dei batteri o dei micetri che abbiamo detto prima cioè il criterio maggiore l'emocultura deve essere positiva per un microorganismo tipicamente associato all'endocardite non tutti i microorganismi danno l'endocardite se ho delle emoculture positive ma non per un un patogeno tipico di endocardite è considerato criterio minore come criteri minori sono considerati la febbre i fenomeni che avete già visto vascolari periferici e la predisposizione quindi quelle categorie di pazienti a rischio dell'endocardite che abbiamo detto prima due concetti fondamentali sulla profilassi perché parlo di profilassi parlo di profilassi perché molto spesso soprattutto in alcuni circuiti parlo degli odontoiatri gli odontoiatri fanno grosso esteso uso di antibiotico in profilassi in maniera un po' a capocchia in realtà cosa intendo intendo ah devi fare che ne so una caria allora prenditi l'antibiotico sette giorni prima allora prima di tutto sette giorni di antibiotico non è profilassi ma è una terapia antibiotica secondo concetto fondamentale non c'è nessuna evidenza che fare un antibiotico diciamo di copertura trasversale a tutti i pazienti porti a una riduzione dell'endocardite soprattutto se il paziente non è facente parte di quelle categorie a rischio che dicevamo prima e non solo andare a sparacchiare con dosi di antibiotico a capocchia ha come invece effetto noto descritto aumentare semplicemente le resistenze antibiotiche quindi concetto fondamentale la profilassi dell'endocardite parlo di profilassi e non di terapia questi sono pazienti che non hanno diagnosi non gliela vogliamo fare avere l'endocardite la profilassi dell'endocardite si fa nel paziente ad alto rischio che fa una procedura ad alto rischio ci devono essere due condizioni paziente ad alto rischio procedura ad alto rischio il paziente ad alto rischio l'abbiamo già detto qual è? quello predisposto quello con le protesi valvolari quello col pacemaker quello che ha cateteri a permanenza oppure quello che ha già fatto un'endocardite infettiva qui se vedete ci sono aggiunte anche i pazienti con cardiopatie congenite quindi con malattie cardiache alterazioni strutturali congenita ma in linea di massima il paziente ad alto rischio è quello che abbiamo già detto prima paziente in dialisi paziente immunocompromesso ok e la procedura ad alto rischio qual è la procedura ad alto rischio? semplicemente queste tre che vedete manipolazione della gengiva manipolazione della regione periapicale e perforazione della mucosa orale tra cui i piercing procedura ad alto rischio però immagino che il piercerolo tatuatore faccia molto meno profilassi antibiotica del dentista quando è che non è raccomandata invece la profilassi nella maggior parte dei casi in cui si fa l'anestesia il trattamento di carie i raggi odontoiatrici la rimozione dei punti di sutura gli apparecchi anche il trauma ok in tutti questi casi è controindicato classe 3 bollino rosso fare la profilassi e come si fa la profilassi ripeto nel paziente ad alto rischio che fa una procedura ad alto rischio si fa con una somministrazione di antibiotico una no 14 una somministrazione di antibiotico da 30 a 60 minuti prima dell'intervento quindi la profilassi non è la terapia dell'endocardite se no non si chiama profilassi ed è one shot ok due grammi di amoxi per bocca o endovena prima della procedura one shot non è tutta la terapia mi raccomando perché in giro su sta roba si vede veramente qualsiasi cosa qui vedete una serie di opzioni terapeutiche anche a seconda di quelle che sono le potenziali allergie del soggetto concludo con quelle che sono le complicanze dell'endocardite infettiva perché come abbiamo accennato l'endocardite infettiva classicamente come complicanza dà la stenosi e l'insufficienza valvolare cioè le valvulopatie classiche queste le tratteremo in una lezione dedicata dall'altro lato da tutta una serie di complicanze periferiche che possono essere date sia dall'embolizzazione che abbiamo detto può prendere tutti i distretti dal distretto sistemico al distretto polmonare in casi per fortuna abbastanza rari il processo di distruzione di rimodellamento della valvola è talmente avanti e talmente evidente che può andare a toccare anche la parete cardiaca e quindi anche lo scheletro fibroso del cuore non solo i lembi valvolari e portare a degli ascessi delle fistulizzazioni cioè dei tramiti che si creano proprio perché il batterio in qualche modo mette in comunicazione due camere cardiache oppure nei casi peggiori addirittura sul paziente che hanno protesi valvolari il rimodellamento porta uno spaldamento dei punti di sottura che legano la protesi al resto della camera cardiaca e quindi ho un distacco di protesi cioè la mia protesi mi si stacca mi si può staccare parzialmente e quindi non funziona più perché ovviamente avrò insufficienza nella sede del distacco oppure addirittura il distacco di protesi totale che di solito esita in un arresto cardiaco e nell'exitus di solito